In un momento di caos pressoché totale al Palermo si cerca di puntellare dove si può, depositata la documentazione richiesta per poter prendere parte al prossimo torneo cadetto con la formalità della consegna dei documenti già effettuata in tempo utile, così come il deposito della garanzia fideiussoria per l'iscrizione al campionato. La Covid so che intanto non ha inviato notifiche di inadempienza o irregolarità ai club della prossima Serie B, cosa che invece è accaduta a diverse squadre di Lega Pro in questi giorni. Il Palermo ha dunque i conti in linea con i regolamenti imposti dall'organo di controllo delle società calcistiche, fronte diverso quello interno al club di Vela Delfante. Dopo le dimissioni del CDA che ha fatto decadere le varie cariche, tra cui quella di Baccaglini da presidente, si attendono la nomina del nuovo consiglio, la riassegnazione delle cariche di presidente e consiglieri delegati. La prima di queste due cariche non dovrebbe toccare a Zamparini, che lo ha già detto chiaramente e che sta valutando la figura da mettere a capo del prossimo consiglio di amministrazione. Parecchi nomi accostati al club per un compito che sarà principalmente di garanzia e di rappresentanza. Il patron si muove verso profili con vicinanza in ambienti giudiziari, ma ancora non ha scelto chi sarà il successore di Baccaglini. Parola anche al mercato che vede il DS Lupo impegnato su più fronti. Nella fase dei sondaggi, tra le ipotesi Pegolo e Amelia, per la porta avanza anche la candidatura di Pelizzoli lo scorso anno in Lega Pro col Piacenza. Per gli altri reparti è quasi fatta per l'arrivo di Sissè dallo standard di Liege a centrocampo, mentre in difesa oltre ingegneri. I nomi sono quelli di Lucioni, Clayton o in alternativa Salomon. Per l'attacco sfumato Ganz ha casatosi al Pescara, intanto in ritiro verranno valutati dall'allenatore Tedino, i vari Bentimegna, Lagumina e Lofaso, ma anche Accardi e Fiordilino.